Ciao, io sono Roberto Marchesini di wpvincente.it e nei video di oggi ti voglio presentare un ottimo compositore visivo per WordPress che ti consentirà di costruire pagine web sul tuo sito in modo più semplice e professionale. Il plugin in questione si chiama Visual Composer e ad oggi è uno tra gli editor visivi più utilizzati al mondo. Guarda questo video fino in fondo e scoprirai il perché è diventato così popolare. Passiamo subito alla parte pratica del video. Allora attualmente ci troviamo su questo mio sito di prova che come vedi sto utilizzando il tema di default che mi mette a disposizione WordPress. Ora se vado sul pannello di amministrazione di WordPress e vado all'interno della mia home page, quindi vado su pagine, tutte le pagine e vado all'interno della home, questo è l'editor di base che mi mette a disposizione la piattaforma WordPress. Come puoi ben intuire qui troviamo davvero pochi strumenti che ci consentono di personalizzare il nostro sito web. E se poi vogliamo ad esempio creare una sezione a due colonne, tre colonne, quattro colonne all'interno della nostra pagina web, come possiamo fare questo? Ebbene con l'editor di WordPress di default non possiamo farlo. Anche per andare ad aggiungere delle funzionalità aggiuntive all'interno delle nostre pagine, dobbiamo andare ad installare plugin e su plugin che non fanno altro che andare ad appesantire il nostro sito web. Per questo motivo degli sviluppatori sono andati a realizzare da zero un editor visibile che sia molto molto più potente e intuitivo di quello di default. Oggi ti volevo presentare l'editor visivo Visual Composer. Visual Composer come vedi è un plugin a pagamento, costa sui 46$, ma ti garantisco che per questo prezzo ti permette di fare davvero tantissime cose, ma te lo voglio far vedere subito. Infatti io ho acquistato una licenza del Visual Composer così posso farti vedere come funziona questo plugin. Ora me lo vado ad installare sul mio sito web, quindi dal pannello di amministrazione di WordPress vado su plugin, aggiungi nuovo. Ora io il plugin me lo sono salvato sul desktop, quindi vado a cliccare su carica plugin, choose file, il plugin è questo qui, lo vado a caricare sul mio sito web e lo vado ad attivare. Ok ecco qui che il plugin è stato attivato e ci viene dato il benvenuto. Benissimo, una volta che sei su questa pagina vai all'interno della pagina che vuoi andare a modificare o vanno a creare una di nuova giusto per vedere come funziona il plugin, io vado su pagine, tutte le pagine e vado a modificare la mia home page. Quindi clicco su modifica e come vedi ecco che qui mi sono apparsi questi due pulsanti. Praticamente se vado a cliccare su back end editor per esempio, come vedi Visual Composer è andato a sostituire completamente l'editor di default di WordPress. Quindi da qui ora puoi andare a modificare la tua pagina utilizzando il nuovo editor visivo. Ad esempio puoi andare ad aggiungere delle nuove colonne al tuo contenuto, come vedi è molto molto semplice. Oppure cliccando sull'icona più puoi andare ad aggiungere dei nuovi moduli, come vedi di default te ne mettono a disposizione davvero tanti. Come vedi puoi andare a creare una nuova riga, un separatore con testo, un messaggio box, una nuova sezione e molte molte altre cose. Ma se vado a chiudere questa sezione e vado a cliccare sul pulsante front end editor, cosa succede? Praticamente ora posso andare ad utilizzare l'editor direttamente all'interno della mia pagina web. In questo modo posso vedere in tempo reale come sarà visualizzato il mio contenuto all'interno della mia pagina web. E questa è una cosa davvero molto molto utile secondo me in confronto all'editor di default di WordPress. Naturalmente qui puoi andare ad aggiungere i moduli come ti ho fatto vedere prima. Quindi clicchi sull'icona, vai ad aggiungere i tuoi moduli e vai a realizzare le tue pagine web. Per vedere tutte le funzionalità che ti mette a disposizione questo plugin ti consiglio di cliccare sul link che trovi sotto a questo video così puoi andare a leggerti questa pagina. Come puoi ben vedere questo edito visivo ti mette a disposizione davvero molte molte nuove funzionalità per il tuo sito web. Non ti resta altro che andranno a provare. Bene siamo arrivati alla fine di questo video e se sei interessato alla piattaforma WordPress cosa mi dici di scaricare il mio manuale completo a WordPress che ti guida con la creazione e gestione del tuo sito web con tanto di immagini. Puoi scaricare questo manuale andando all'indirizzo wpvincente.it slash manuale penso proprio che ci sarà di grande aiuto. Con questo io ti saluto e mi raccomando di iscriverti al mio canale di YouTube per non partire tra i prossimi video. Grazie a tutti.